Oggi è una giornata in cui è venuto a mancare Alfredo Biondi, un liberale che ha avuto molti ruoli nella Repubblica, nel mondo delle associazioni culturali liberali italiane. Abbiamo riflettuto a fondo, insieme ai vertici della Fondazione Inaudi, anche con i nostri ospiti di oggi che erano previsti per decidere se andare in onda regolarmente con il Caflé del mercoledì oppure no. Insieme alla professoressa Fornero, che ringrazio ancora per la disponibilità, e a Roberto Lagalla, assessore alla formazione e alla pubblica istruzione della regione siciliana, abbiamo deciso che era giusto sospendere anche il Caflé insieme a tutte le altre attività della Fondazione Luigi Inaudi e di lasciare soltanto lo spazio per un ricordo di Alfredo Biondi che abbiamo affidato a Davide Giacalone, vicepresidente della Fondazione Inaudi. È una decisione degli ultimi minuti, una decisione sofferta, ma abbiamo ritenuto che fosse la cosa giusta da fare. Quindi vi ringrazio, vi ringrazio per l'attesa, vi do appuntamento al prossimo mercoledì per il Caflé, a domani per le consuete attività della Fondazione Inaudi. Vi lascio al ricordo di Alfredo Biondi, fatto da Davide Giacalone. Grazie. Alfredo Biondi ci ha lasciato. A nome della Fondazione Luigi Inaudi, del suo presidente Giuseppe Benedetto, voglio ricordare l'amico, il combattente per la giustizia e per la libertà, l'esponente di punta, mai d'uomo della cultura e della politica liberale in Italia. Quando si parla di politica, quando si impegnano le forze politiche a pensare al futuro, quando si governa, quando si legifera è giusto, è bene, è doveroso occuparsi degli interessi collettivi, della ripartizione della ricchezza, magari sempre ricordandosi che va prima prodotta e poi dopo può essere in maniera equa ripartita. Ma quando si parla del diritto, quando si parla della giustizia dei tribunali, quel che avviene prima di ogni altra cosa è la difesa dei diritti individuali e della libertà individuale e della posizione del cittadino tutti uguali davanti alla legge senza pregiudizi positivi o negativi. Con la giustizia che persegue i reati e accusa coloro i quali ritiene essere responsabili dei reati, salvo un tribunale terzo che debba giudicare. Non una giustizia che si occupa di fenomeni sociali o che pensa di essere la parte sana della società, su questo Alfredo Bionti ha speso una vita di battaglie. Ne potremmo ricordare moltissimo, mi piace ricordare quella di un altro uomo libero, di un altro liberale italiano, Enzo Tortora. Ci mancherà l'esempio di Alfredo Bionti, ricordando che quella generazione ci lascia per limiti naturali, una nuova generazione si prepara e quella che si prepara i più giovani ricordino sempre che oltre all'esempio, quel che conta è lo studio, l'impegno, la conoscenza e inaudianamente conoscere per deliberare, altrimenti le opinioni non esistono in quanto tali, sono solo pulsioni del momento. Un saluto al vecchio amico Alfredo Bionti.